Buongiorno a tutti cari amici, beh rispetto a ieri pomeriggio sera diciamo che va un pochino meglio beh l'Italia, quest'Italia vince 2 a 0 contro l'Irlanda del Nord ma almeno per me non convince perché si nel primo tempo gioca bene ma sbaglia tanto, tantissimo soprattutto poi nel secondo tempo dove magari se segnava l'Irlanda del Nord forse sarebbe stato per noi un segnale di risveglio, che dire ci mettiamo questi tre punti in saccoccia, prossima partita questa domenica in casa dalla Bulgaria Bulgaria scusate, ore 20 e 45 sempre su Rai 1 e Rai 1 HD, speriamo una prestazione migliore rispetto a quel di ieri sera noi ci vediamo alla prossima, hasta la vista, buona, ciao